Il Festival di Sanremo è una delle trasmissioni televisive più importanti e attese in Italia, ma è anche uno dei più importanti eventi a livello canoro in tutto il mondo. Oggi voglio parlarvi di cosa potrebbe cambiare in meglio al Festival di Sanremo se si utilizzassero le tecnologie NFT, Blockchain e Metaverso. Sei un dipendente e vuoi arrotondare il tuo stipendio o addirittura ottenere una seconda entrata grazie alle criptovalute? Allora sei nel posto giusto. Io sono Davide e investo nel mercato delle criptovalute dal 2017 e aiuto i dipendenti e i padri di famiglia a comprendere la Blockchain e le criptovalute e a guadagnare soldi extra proprio con esse in maniera semplice e sicura. Ti starai chiedendo come. Dopo anni di studio sono riuscito a creare una procedura semplice da seguire, sicura da mettere in pratica e che richiede soltanto 10 minuti al giorno. L'obiettivo è diventare un esperto negli investimenti in criptovalute ed ottenere soldi extra in maniera semplice e sicura. Crederai che sia impossibile? La realtà è che se studi le giuste nozioni, impari a utilizzare i giusti strumenti e soprattutto sai dove e come investire i tuoi soldi, il guadagnare soldi extra divenne una cosa molto semplice da ottenere e soprattutto naturale e controllata. Tutto ciò ti permetterà di ottenere dei risultati straordinari seguendo una procedura collaudata in anni di studi e pratica sul mercato delle criptovalute. Se vuoi saperne di più contattami adesso all'email qui sotto in descrizione e scopri come posso aiutarti. Ma adesso torniamo al video. Bentornati o benvenuti sul mio canale. Abbiamo già avuto diversi concerti all'interno del metaverso come quello di Snoop Dogg, come quello di Justin Bieber, come quello di Travis Scott e anche di David Guetta. Ognuno di loro ha dato vita a un concerto all'interno di un metaverso differente o addirittura andando a creare un videoclip con questa tecnologia che poi è stato anche premiato alla MTV Awards nella categoria Best Metamers. Inoltre nell'ultima Bull Run gli NFT della collezione Board Deep Yacht Club sono stati tra i più ricercati soprattutto tra le star e VIP proprio perché erano un motivo di vanto per ottenerli e inoltre erano anche un metodo per far parte di una elite, di un club privato che aveva accesso a determinati servizi ed eventi. Per finire Facebook nel 2021 ha cambiato il suo nome da Facebook a Meta per andare a incentivare e accentuare la sua direzione per il futuro che sarà logicamente verso il metaverso e quindi rendere possibile l'accesso ad eventi indistintamente dalla posizione geografica in cui vi trovate o si trova l'evento stesso andando a parteciparvi, andando a utilizzare logicamente un visore per la realtà aumentata come l'Oculus Quest creato proprio da Meta. Insomma questo trend sta dilagando in maniera veramente esponenziale dando vita a un nuovo modo di approcciare ai diritti d'autore ma ancor meglio ad alcune experience o eventi che non sono più limitate alla loro locazione fisica ma risifluibili a tutto il mondo in maniera nettamente migliore rispetto all'originale. Il Festival di Sanremo 2023 porta già alcuni miglioramenti o implementazioni di questa tecnologia e in effetti quest'anno hanno dato la possibilità di poter acquistare i biglietti per partecipare all'evento tramite l'acquisto di NFT. In questa maniera hanno reso prima di tutto meno contraffabile o praticamente impossibile contraffare un ticket per entrare all'interno del posto. Inoltre avevano una connessione diretta con la seduta stessa e quindi l'unicità di quel posto e in più la possibilità di poter rivendere questo NFT su un qualsiasi mercato in maniera totalmente slegata dall'accesso dell'organizzazione ma inoltre l'organizzazione stessa poteva ricevere delle fee da ogni transazione che veniva effettuata da una compravendita di quest'ultimo NFT. Un altro metodo di applicazione degli NFT all'interno del Festival di Sanremo sarebbe potuta essere stata quella di immortalare i momenti salienti più importanti dell'evento dando a creare come una collezione di figurine sicuramente molto più di lit e oltretutto aggiornata ai tempi nostri che darebbe la possibilità di essere proprietari di un pezzo dell'evento di quest'anno o ancora una volta vendere le tracce musicali andando a connettere il copyright della musica e logicamente i diritti anche di chi li andava a pubblicare in questa maniera andando a creare una vendita diretta verso il pubblico molto più semplice da acquistare e vendere e ancora una volta ottenendo in maniera totalmente automatica la percentuale di fee sulle transazioni di compravendita della canzone in questa maniera si sarebbe potuto creare addirittura una specie di limitazione o totalmente una eliminazione delle tracce audio contraffatte proprio di queste canzoni d'altro canto per quanto riguarda il metaverso in questo caso avremmo potuto ottenere un miglioramento a livello prima di tutto di fruibilità quindi non più andando a collegarci con il nostro televisore all'evento o comunque sul canale che lo andava a trasmettere ma andando a vedere in maniera molto più intensa e coinvolgente l'evento stesso andando a utilizzare come ho già detto prima un Oculus Quest che è nient'altro che un visore per la realtà virtuale andando poi a collegarsi alle telecamere posizionate a 360 gradi all'interno del teatro andando a mostrare dei punti differenti di visione non semplicemente quello che viene proiettato dalla regia e organizzazione dell'evento inoltre si potrebbero abbattere anche i costi esorbitanti di creazione e di logicamente organizzazione di questo evento anche perché sappiamo benissimo essere comunque prodotto e mandato in onda sulle reti della Rai le reti della Rai sono delle reti nazionali che ottengono le loro sonvezioni direttamente dalle tasse che vengono pagate proprio dal canone in questa maniera cosa succede? nel momento in cui si rendesse pruibile a livello di streaming quindi questo evento si potrebbe tranquillamente ipotizzare la possibilità di riuscire ad ottenere una parte del cachet dei vari cantanti o addirittura semplicemente una fee di partecipazione o magari semplicemente delle donazioni da parte di tutti coloro che vi partecipano in maniera multimediale proprio come succede già da tempo o su youtube, nelle live o logicamente nel social viola quindi tutto ciò non sarebbe uno stravolgimento della tecnologia stessa ma semplicemente un'implementazione di questa tecnologia all'interno di un evento che ormai diciamocelo è rimasto praticamente agli anni 80 e per aumentare l'engagement e la voglia di partecipare quindi a questo evento soprattutto ai più giovani si sarebbe potuto dare l'opportunità di poter ottenere degli nft speciali o delle skin che potrebbero poi essere utilizzate all'interno di un metaverso qualunque logicamente in base a quello che viene utilizzato per trasmettere questo evento e in quella maniera rendere un po' più di elite e logicamente anche un po' più di appeal e appetibile semplicemente ai giovani la partecipazione o comunque magari alle persone che hanno voglia di guardarlo solo e soltanto perché non c'è nient'altro all'interno della televisione in quei giorni insomma queste potenzialità che dalla blockchain il metaverso e comunque in generale il web 3.0 sono delle potenzialità che andandole ad implementare al festival di Sanremo sarebbero state o saranno perché non è detta ancora l'ultima delle opportunità che andrebbero a dare sicuramente nuova vita all'evento in sé per sé ma anche andare a creare un punto di vista a livello mediatico di questo evento non più di un qualcosa della tradizione ma un qualcosa che funziona anche nel presente e nell'immediato futuro dando così una motivazione non semplicemente perché non c'è nulla in televisione o perché ho pagato il canone Rai ma perché voglio partecipare per coinvolgermi per coinvolgere e per ottenere qualcosa di nuovo, di innovativo rispetto al passato e con questo dal mio punto di vista è tutto io come al solito vi ringrazio di aver visto il video vi ricordo di mettere un mi piace, commentare qui sotto, iscrivervi al canale attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare andare a visitare il mio account Instagram e TikTok DavideVasco85 e come al solito grazie e al prossimo video ciao a tutti i criptomani